A vincere la Pupa e il Secchione edizione 2024 è stato Candido e Federica. La coppia dunque vince questo reality show ieri nell'ultima puntata 10 maggio 2024. La conduzione di questo reality è stata di Enrico Papi, Aldo Montano e della bella Paola Barale. Federica dunque e Simone Candido vincono l'ultima prova sfidando i colleghi Camilla e Andrea Valenza e alla fine però ce la fanno Candido e la bella Federica. Una coppia bellissima seppure vi ricordo che già dagli inizi sia Camilla che Valenza erano stati giudicati come vincitori dall'inizio e erano infatti favoriti ma alla fine però il pronostico è andato a ribattarsi e hanno vinto Candido e la bella stupenda nonché sempre sexy Federica. Beh hanno dimostrato di volersi bene Federica unica Pupa e quando parla dice noi parlando della coppia così avrebbe dichiarato Candido morbillo va bene e anche la coppia sembra essere stata più che collaudata e più che buona dal punto di vista personale va bene complimenti comunque a Federica e al mitivo Candido il video è terminato qua questo video non vuole rendere la coppia così ma solo informare storia nasce infatti solo per questo motivo non per altri motivi non per altri raggiunti complimenti a entrambe ciao da Leandro narratore italiano complimenti a tutti voi